Sei un dipendente della pubblica amministrazione o statale? Non perdere l'opportunità che ti offre il gruppo Santa Maria. Potrai chiedere un prestito agevolato fino a 75.000 euro, oppure potrai richiedere la rinegoziazione di un prestito in corso. Realizza i tuoi progetti più importanti. Hai tempo sino al 31 12 2015 per avere un prestito agevolato di 20.000 euro con una rata fissa di 229 euro al mese per 120 mesi. Non aspettare! Chiama subito il numero verde 800 82 12 89 o visita il nostro sito www.grupposantamaria.com Gruppo Santa Maria. Rapidità, efficienza, trasparenza sono i segreti del nostro successo.